Buon pomeriggio, mi chiamo Ole Gossipo, sono giornalista, anche se oggi lavoro nel reparto informazioni di Rosso Trudnicestvo. Questa è la struttura statale russa sotto il Ministero degli Affari Esteri, che è responsabile dei centri culturali russi all'estero, che sono presso le ambasciate. Vi parlerò delle peculiarità della vita in Russia, di cose che di solito non vengono mostrate o raccontate. Forse questo ti aiuterà a capire la misteriosa anima russa, o viceversa, ti riconoscerai nei russi e scoprirai che siamo russi, non siamo diversi dai normali italiani, francesi o tedeschi? Beh, forse solo un po'. Il 22 gennaio Mosca ha iniziato a rimuovere alcune delle restrizioni sul coronavirus. Oggi vi racconterò di come è stata prevenuta la diffusione esplosiva della pandemia nella capitale della Russia, usando l'esempio del trasporto pubblico. Più precisamente la metropolitana, che trasporta più di 7 milioni di passaggeri al giorno. Tutto è dovuto al fatto che Mosca è una città con forse le misure più rigorose per combattere il Covid-19 nella metropolitana. Questa è la conclusione a cui sono giunti gli specialisti dell'Unione Internazionale dei Trasporti Pubblici, che hanno indagato esattamente quale misure contro il coronavirus vengono utilizzate nelle metropolitane della megapoli in tutto il mondo. I ricercatori hanno analizzato in totale 16 metropolitane, Subway, la metro, le metro, in quasi tutti i continenti, Pecchino, Seul, Berlino, Parigi, Londra, Madrid, Hong Kong e altre città. In Russia lo studio è stato condotto nella metropolitana di Mosca. Si è scoperto che solo nella metropolitana della capitale, l'unica di tutte, i tunnel erano disinfettati. L'elaborazione delle aree passaggeri nella metropolitana di Mosca è stata effettuata più spesso che altrove. Solo Pecchino, Hong Kong e Singapore possono competere su questo tema con la capitale russa, secondo lo studio. Ogni giorno oltre 2.000 dipendenti sono stati disinfettati nelle aree passaggeri della metropolitana. Particolare attenzione è riservata alla disinfezione delle maniglie delle porte d'ingresso, terminale per il pagamento con carte bancarie, tornelli e corrimano delle scale mobili. I distributori automatici di biglietti, ad esempio, disinfettano ogni un'ora e mezza o due ore. Per fare un confronto, a Taipei le superfici con cui i passaggeri entrano in contatto vengono trattate ogni 4 ore, mentre a New York solo due volte al giorno. Solo a Mosca e Lisbona i lavoratori della metropolitana effettuano regolarmente test per il coronavirus. Monitorare l'uso di maschere e guanti senza di loro potrebbero non essere consentiti. Tuttavia, l'uso del trasporto senza maschere e guanti era vietato ovunque. Non tutte le metropolitane erano dotate di disinfettanti e solo 4 metropolitane, inclusa Mosca, sono state collocate nei punti più importanti. È interessante notare che le multe più basse per il rifiuto di indossare una maschera sui trasporti pubblici sono state introdotte a Mosca e Pechino, circa 70 contro mille a New York. Gli esperti hanno compilato un elenco di raccomandazioni per l'utilizzo dei trasporti pubblici durante una pandemia. Un consiglio fondamentale è evitare i viaggi nelle ore di punta. Durante la pandemia la metropolitana di Mosca ha dimostrato di poter funzionare in qualsiasi condizione. Adesso vi saluto e la prossima volta vi racconterò come i russi si fanno visita. Ci vediamo, arrivederci.